Buonasera mister, iniziamo con Francesco Straface, Messina Sportiva. Messina, immagino un po' di amarezza perché per 70 minuti in dieci il Messina era riuscito comunque a raddrizzarla. Sì, amarezza perché dopo l'1-1 abbiamo avuto anche l'occasione di andare in vantaggio per due volte e purtroppo non abbiamo sfruttato quelle due occasioni che abbiamo avuto. Però sotto il profilo della prestazione non posso dire nulla, i ragazzi hanno fatto una grande prestazione considerando che al 26esimo già eravamo in dieci e che abbiamo giocato anche con un forte vento nel primo tempo, un po' meno nel secondo. Però sono dettagli, rimane un'ottima prestazione e chiaramente una ferita sotto il profilo del risultato. Però bisogna che guardiamo avanti, che comunque c'è la prossima che si chiama Caserta e che avremo modo di analizzare quello che è stato buono e quello che è stato meno buono durante la settimana. Francesco Certo, Corner. Buonasera Minister, ti chiedo del non buono, cioè le due reti subite forse un po' troppo leggeri in alcune letture, in un momento in cui eravate in inferiorità, forse la squadra poteva leggere diversamente Paciardi che è uscito su quel palleggio e anche sulla seconda tratti dal pallone. Come anche in occasione dell'espulsione, è troppo facile da una punizione a favore, prendere un contropiede. Sono queste le cose che forse dovete correggere, che ti fanno anche un po' arrabbiare perché sono un po' delle leggerezze. Sono leggerezze che costano poi le partite, però io non l'ho visto, ma mi dicono che sul gol che abbiamo preso, almeno sul primo, sul tiro di Frisenna, c'era un fallo di Manonetto perché aveva tirato in porta e poi sono ripartiti e da lì è nato il primo con loro. Ma c'era la volontà da parte della squadra di volere fare la partita, di volere cercare di vincerla, poi magari siamo rimasti in dieci e abbiamo cercato a non perderla. Eravamo riusciti pure a pareggiarla, eravamo riusciti pure a creare altre due palle importanti per fare il 2-1. E poi, come hai detto tu, qualche situazione letta male ci ha permesso di prendere il secondo gol e lì siamo stati un po' ingenui sotto questo punto di vista, nella lettura della giocata e soprattutto nella chiusura di quella parte di campo dove loro hanno fatto poi il 2-1. E purtroppo è così, bisogna guardare avanti, bisogna guardare Caserta, bisogna andare avanti, sarebbe stato anche un punto fantastico perché avremmo mosso, avremmo dato continuità, ma 6 ma non contano niente. E purtroppo è così, bisogna guardare avanti. Miglioti, tempo stretto. Buonasera mister, se ci vuole commentare la prestazione di Rosafio che ha schierato dal primo minuto. Sembra, alla tribuna, che abbia fatto bene. Se sembra a voi, a me ancora di più. Per me ha fatto benissimo, per quello che, insomma, tre giorni che era con noi e ha fatto quello che ha potuto, l'ha fatto nel miglior modo possibile. Ha deliziato con la palla del primo tempo data Plescia importante, poi ha avuto quell'altro slancio del probabile 2-1 per noi. E' da dentro l'area che ha messo questa palla, questa rasoglia da dentro. Si è mosso molto bene, ha voglia. Io sono contento, ma a parte di Rosafio, sono contento della squadra. Davide Bill, Gazzetta del Sud. Buonasera mister. Lei ha detto che vuole guardare avanti, però prima di Caserta accetta considerare che mancherà Ortisi, se non sbaglio pure Scafetta, l'IA non si sa. Quindi questa settimana dovrà insistere per i nuovi? No, io ho poco da insistere. Se me ne siete accorti voi, se ne saranno accorti pure gli altri. Noi siamo qua e siamo in attesa di capire, punto. L'abbiamo già detto e poi non voglio passare sempre quello che rompe le palle nel momento in cui deve dire o fare qualcosa. Scusate la parolaccia, ma siamo qua. Andiamo avanti, vediamo. Aspettiamo. Il mercato è aperto, siamo fiduciosi. il presidente vuole fare e noi siamo qua in attesa di capire chi potrebbe essere al caso nostro. La lista ce l'hanno, basta. Davide Mangiapane, Corner. La messina il pallone, va bene, non c'è problema. Ci vogliamo bene con Ciccio. Volevo chiederle su due singoli. Ragusa, che ha fatto una ventina di minuti, quasi compresi il recupero. Dal 27esimo il terzino sinistro. Il terzino sinistro. E poi Zunno, che comunque ha fatto il pallone. È lodevole. Ed è entrato bene in partita. Me l'ha chiesto lui, misto mi metto io qua tranquillo. Però poi non potevo soffocare un ragazzo, un attaccante, un giocatore, a fare il terzino. Però sono bei segnali da parte della squadra. Certo, sono contento. Ribadisco che la squadra, io ho poco da dire, da rimproverare. Se si può dire rimproverare. Hanno fatto quello che hanno potuto. Certamente queste due letture che ci hanno permesso di non portare a casa punti vanno analizzate e visualizzate e cercare di migliorarli. Non c'è ombra di dubbio. Però nell'economia della partita, visto che siamo rimasti in dieci, al 26-27esimo, è quello che hanno potuto fare. C'è poco da dire. In quanto a impegno e volontà e dedizione, tanta. E mi piace pensare che loro, pur di vincere la partita, hanno cercato di forzare qualche cosa che andava letta diversamente. E quindi magari potevamo evitare di prendere uno dei due gol. Non dico tutte e due, ma uno dei due gol sicuramente sì. Zunno è questo. Zunno è un giocatore importante, è un giocatore che ha forza, è un giocatore che ha rapidità. Deve cercare meno il gol, che ne farà molti di più, secondo me. Ha qualità tecniche non indifferenti. Tira poco in porta. Se tirasse qualche volta un po' di più, forse ci aiuterebbe anche a poter essere diverso e determinante in fase realizzativa. Però sulle qualità di Zunno non sono in discussione. Ok, grazie mister. Un po' arriva Zunno.